Professore, lei con Dario Tuorto ha scritto La Lega di Salvini, estrema destra di governo e alcuni esponenti della Lega le hanno ricordato che è un professore, un dipendente pubblico per cui deve anche andarci piano con le parole. C'è una carta costituzionale che garantisce il mio diritto di espressione e soprattutto il mio diritto di ricerca che rivendico. Se è un problema essere definiti di estrema destra questo è un problema delle persone che aderiscono alla Lega Nord quindi hanno due opzioni, cambiare partito o cambiare il partito facendolo diventare un partito non di estrema destra e soprattutto riconoscersi nei primi, almeno nei primi 13 articoli della Costituzione che ribadiscono i valori della resistenza dell'antifascismo e della democraticità. Perché la Lega Nord è un partito di estrema destra? Prendiamo la letteratura non italiana, la letteratura francese, britannica, tedesca la Lega è inserita chiaramente da almeno 15 anni all'interno di questa famiglia dei partiti di estrema destra. In Italia c'è questo problema di smemoratezza, se vuole un paese di contemporanei, diceva Indro Montanelli ci dimentichiamo che cosa è successo una settimana fa io lo chiamo il ministro alla falsificazione storica, il senatore Salvini perché dice mentendo oppure non conoscendo che il 25 aprile è una guerra tra comunisti e anticomunisti in realtà non è così perché il 25 aprile rappresenta la liberazione dal nazifascismo c'è questa copertura politica che ormai è chiara e il ministro dell'interno ha un atteggiamento differente quando a contestarlo è una ragazzina di 17 anni che diciamo in maniera un po' sgarbata probabilmente un po' ironica un po' locanzona le fa sequestrare addirittura il telefono utilizzando la Digos come se fosse la sua apelizia personale e invece quando una poliziotta a Verona viene attaccata da un manifestante un po' alticcio a cui mostra l'eterga questa funzionaria della polizia non viene garantita nella sua dignità di donna e di funzionaria della polizia di servitore dello Stato Matteo Salvini ha anche consegnato una sua intervista ad Altaforte casa editrice comunque di estrema destra dichiarata è un altro tassello che va in quella direzione cioè nella direzione di giocare deliberatamente il gioco dell'ambiguità rispetto a temi caldi io credo che per Salvini questo sia un gioco molto pericoloso se Salvini vuole dimostrare di essere come mi pare voglia fare un uomo di governo dovrebbe abbandonare queste derive e prendere ad esempio esponenti della destra conservatrice europea Helmut Kohl, Sarkozy se vuole Margaret Thatcher i conservatori britannici i popolari spagnoli e non l'estrema destra italiana di cui francamente non credo il paese abbia bisogno movimenti di estrema destra come Casa Pound dicono che si commette un errore a parlare di estrema destra non è che si replichi il fascismo del 22, 43, 45 con le stesse dinamiche, le stesse organizzazioni ma ci sono delle parole, dei comportamenti, degli atteggiamenti degli elettori che stanno enfatizzando una direzione di violenza politica nella assegnazione di una casa, di un alloggio popolare a una persona non so, presumo che avesse diritto e per far sì che questo diritto fosse riconosciuto c'è stato bisogno dell'intervento della polizia di Stato cioè a me un po' ha ricordato gli Stati Uniti l'immagine degli Stati Uniti soprattutto degli Stati del Sud e degli Stati Uniti dopo l'approvazione del Civil Rights quando affinché i bambini, le bambine nere potessero frequentare le scuole mescolandosi gli altri bambini dovevano essere accompagnati dall'FBI la sindaca Raggi è intervenuta per garantire che la famiglia assegnataria potesse rimanere nel palazzo è stata redarguita, tra virgolette, da Luigi Di Maio Il Movimento 5 Stelle però, ricordiamoci, che non è del tutto lontano su questi temi dalla Lega Nord da cittadino di Reisciapo alla sindaca di Raggi che ha dimostrato carattere che spesso le viene negato ha dimostrato anche una statura di donna di governo Il Movimento 5 Stelle sarà fagocitato dalla Lega? Non credo Io credo che la Lega abbia un problema e che il problema si chiami Matteo Salvini Salvini, come noi presentiamo nel volume ha centrato tutto su se stesso la comunicazione le famose sezioni della Lega dove si faceva politica la Lega sul territorio la Lega radicata sul territorio è diventato un mantra per tutti i partiti la Lega ha perso il 66% delle proprie sezioni quindi non è questo partito del territorio come viene raccontato c'è una parte del partito che ovviamente accetta Salvini di buon grado perché Salvini ha successo e quindi come ci insegnerebbe il grande Max Weber finché il leader ha successo diventa intoccabile nei momenti di magra lui potrà avere due problemi uno il partito e due il nord e due il nord